Sì, sapevamo che Modica sarebbe stato un avversario ostico, infatti all'andata abbiamo sofferto, ma siamo usciti comunque a testa alta, sapevamo che era un campo difficile e adesso la striscia positiva è abbastanza lunga perché dopo due grandi risultati, sia a Mister Bianco che qui in casa con Cinque Frondi, ci confermiamo la grande squadra e questo è qualcosa di veramente bello per questo paese che è unito e viene sempre numerosi in palestra ad assisterci. Avete giocato bene in tutti i fondamentali, è stato anche perfetto Salomone in ogni... Sì, 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 più che altro è la coesione, usciamo sempre di squadra ultimamente ed è questo il nostro punto forte, la due estera all'inizio, continuiamo così che arriveremo in alto. Grazie. Grazie.